guarda che c'è l'ha fatto il santo Paolo contro la pianta andiamo giù? no ma andiamo di là grazie a tutti 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 guarda dove è passato io ero dove sei te devi uscire ma lui non è riuscito è uscito di lì adesso arriva il cifo occhio perché quello ti ammazza perché se arriva lui ti ammazza grazie a tutti